Con noi per il Milan, Ariedo Bright, direttore generale dell'area tecnica del Milan. Lelo Oriali, il direttore tecnico dell'Inter. E il team manager della Juventus, Alessio Secco. Grazie, grazie a tutti voi per essere qui stasera. Io voglio assolutamente ringraziarvi, ma farvi anche presente che stasera voi avete un ruolo bello e al tempo stesso difficile. Cioè, da una parte la bellezza di questo ruolo è quello di regalare un sogno a tre dei ragazzi, però in campo ci sono gli undici, il Green Team, quello che si è formato grazie ai vostri voti e alla preferenza di una commissione tecnica durante tutta questa tournée e queste amichevoli. E allora però otto di loro rimarranno fuori da questo. Insomma, voi di scelte e di rose ampie ne avete, Ariedo? Sì, sì, certamente. Seguiremo un ragazzo bravissimo e così riusciremo a soddisfare tanti ragazzi e far capire che a volte chi vuole arrivare può arrivare. Allora, io non credo di poter parlare con l'Inter di ampiezza di rosa, no, Oriali? Ne abbiamo molti noi di giocatori in rosa. Sono contatti, come sempre. E quindi ve ne prendete anche più di uno, no? Ma se c'è la possibilità, perché no? Non posso chiedere nulla, perché rispettiamo il silenzio stampa della Juventus, ma sappiamo che col cuore, Capello, tutto lo staff dirigenziale della Juve, tutti coloro che fanno parte della Juventus da giocatori, insomma, sono vicini col cuore alla Juventus e per questo li ringraziamo e sono qui per scegliere il giocatore che porteranno con loro. Dunque, c'è anche un grande tifoso di campioni che è arrivato, insomma, è stato con noi anche nella prima serata, però lo sentiremo tra poco, così come sentiremo i due allenatori di Inter e del Milan. Comunque tutto questo avverrà subito dopo la nostra pausa, una nostra sigla. Il pubblico è caldissimo, i ragazzi sono pieni di tensione, non vedono l'ora di scendere in campo e lo faranno contro le All Star, tutti insieme in una grande festa qui dal bilanteo di Monza. Noi vi aspettiamo, non mancate, tra poco! Ci siamo! Ci siamo! Siamo qui! Benvenuti ai campioni! Vi rendete conto dell'eccezionalità di questa serata? Ci sono dei ragazzi normali, sono 11, li avete scelti anche voi, soprattutto voi durante l'anno. Erano ragazzi che rincorrevano un sogno, quello che probabilmente fa parte del patrimonio maschile di tutti. Se si chiede a un bambino che cosa vuoi fare da grande, molto probabilmente quando è bambino ti risponderà il calciatore. Ebbene, i ragazzi del Cervio non hanno fatto altro che rincorreva questo sogno per tutta la vita. In parte il loro sogno lo hanno realizzato, vincendo un campionato con la negazione, la fatica, l'entusiasmo che voi anche avete celebrato andandoli ad assistere in tournée in tutta Italia, negli stadi di serie di tutta Italia. Ma adesso sono qui perché il più grande dei sogni, quello che un ragazzo normale generalmente immagina di vivere raccontato da altri, ma non direttamente, cioè quello di partire con le tre squadre più forti del mondo, Milan-Inter e Juventus si realizzerà qui. E per realizzarlo ci sarete voi da casa a votarli. I cinque più votati saranno coloro che verranno scelti dai tre rappresentanti di Milan-Inter e Juventus che abbiamo visto prima e che rivediamo già in postazione per andare appunto con le tre regine del campionato italiano. Insieme a me questa sera, Davide De Zan, mio compagno di viaggio e d'avventura. Buonasera Davide. Buonasera, buonasera Ilaria e buonasera a tutti. Ci siamo per i ragazzi. È arrivata la partita della vita. Ottanta minuti li separano dal sogno. Quel sogno che hanno cominciato ad avere nella testa, nel cuore, quando tutto questo è cominciato. Però questa sera, dimmi. No, io li ho visti, sono stata con loro fino a pochi secondi fa, pochi minuti fa. Io nelle loro facce ho letto la tensione, la paura. La paura di non farcela. Allora io non li farei aspettare oltre. No, anche perché... Andrei a presentare qualcun altro. Anche perché questa sera c'è una partita importantissima, come vi ho detto, la partita della vita. Ad affrontarli, ad affrontare i nostri ragazzi, una formazione veramente speciale, una formazione che onorerà questa serata, che li sfiderà e che li metterà alla prova. Una formazione fatta da grandi campioni, da grandi maestri del calcio. La formazione delle All Stars. Chiamiamoli a iniziare da Mario Ielpo. Pietro Piercovot, Peppe Bergomi, Franco Baresi, Marco Andrè Zorò, Giuseppe Baresi, Chico Evani, Leonardo, Totò Schillaci, Peppe e Signori, Arturo Di Napoli, e poi ancora Ivano Bordone, Filippo Galli, Stefano Eraglio, Stefano Nava, Angelo Carbone, Massimo Crippa, Danielone Massaro, Ruggero Rizzitelli, Paolo Monelli, allenati da Franco Colomba. Le All Stars che sfideranno i nostri ragazzi del Cervia. Eccoli qua, allora, questi sono gli avversari, ma ci sono delle emozioni, le emozioni che loro hanno vissuto, in campo saranno in undici, a vincere saranno solo tre, ebbene, le loro e le nostre, le vostre emozioni, rivisitate in questo filmato che vediamo. Vediamo. Deep within each heart there lies a magic spark has brought together people of all nations feel the flame forever burn teaching lessons we must plan to bring us closer to the power of the dream that brings us feel the flame it will always be it's the power of the dream that brings us healing feel the flame hope and peace we pray and it will always be the power of the dream that brings us the power of the dream to realize the power of the dream il cuore e le emozioni dei magnifici undici da Algeria eccoli con il numero uno il nostro portierone Davide Bertaccini con il numero 26 nemmeno la febbre l'ha formato Cristian Arrieta con il numero 16 Fabio Borrello con il numero 6 Mattia Pistirali e con il numero 19 Bobo Iron Scandroglio il numero 28 il brasiliano Mario Martiglione il numero 22 il diamante Ciro Molivieri il numero 8 il re delle punizioni Lorenzo Spagnoli il numero 17 Matteo James Baldi e con il numero 21 Giacomo Gattieri il cabra e poi l'ultimo sulla sua veglia c'è il numero 11 il suo nome Cristian Giofrino e ovviamente la generosità di questi grandi campioni che si uniscono a questa serata di festa e allora tutti insieme uniti i campioni veri i grandi campioni con i campioni del Cervia in un abbraccio unico uniti si sono scaldati si sono scaldati si scambiano già le prime impressioni ragazzi però lo sapete che di amici ce ne avete tanti e c'è qualcuno è un campione un campione di cuore oltre che un grande talento è un amico di campioni che voleva salutarvi vediamo allora ragazzi è passato un anno un anno straordinario un'avventura meravigliosa avete vinto il campionato adesso però c'è un altro appuntamento per tre di voi questa sera si realizza un sogno straordinario per tutti gli altri comunque il sogno continua questa sera dobbiamo dare il massimo perché perché bisogna farcela e adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori c'è gente sugli spalti che ci vuole campioni campioni ciao allora ancora grazie grazie a Gianni Morandi intanto voglio salutare gli altri ragazzi del Cervia quelli che con il loro cuore e il loro impegno al di là dell'essere arrivati in finale qui hanno portato il Cervia ad un traguardo importante raggiunto dopo 30 anni il Cervia è stato promosso in serie D vincendo il campionato e tutto questo è stato merito di tutti loro i ragazzi i 26 ragazzi che compongono la rosa del Cervia ma con loro ovviamente c'è da tributare un grande saluto a mister Magrini e al condottiero che li ha portati a questo traguardo mister Ciccio Graziani so che la voglia di iniziare è veramente tanta so che l'adrenalina è alle stelle i ragazzi non riescono a star fermi un po' per il freddo ma tanto per le emozioni e poi ci sono gli sfidanti allora per questo calcio d'inizio non ci siamo fatti mancare proprio niente ma soprattutto lui ha voluto esserci a discapito di tutto e di tutti è il più grande nel suo ruolo è il più forte del mondo è il portiere Gigi Buffon eccolo qua pronto lui sarà colui che darà il calcio d'inizio a questa a questa sfida sfida di cuore sfida di pancia sfida di emozioni li ha salutati tutti io non vorrei dire niente ma Buffon ha parlato ha parlato con loro quindi non so se questo viola un silenzio stampa io mi avvicino pronto a dare il calcio d'inizio però non si può dire niente ancora non si può dire niente però sei qua e noi siamo felici di averti qua Gigi per il calcio d'inizio a questo punto io dichiaro ufficialmente aperto il televoto da questo momento è tutto in mani vostre come sempre potete iniziare a televotare è una grande serata allora per questa partita che vale veramente il sogno di una vita non potevamo farci mancare lui la voce the voice delle telecronache colui che ha inventato un nuovo stile di racconto colui che con le sue sciabolate insomma è capace di farci vivere e descrivere le emozioni come nessun altro questa sera la telecronaca è affidata ad un amico bravissimo imitatissimo Sandro Piccinini eccoci e con lui ovviamente c'è Sebino Nella grande voce tecnica grande campione insomma tutto è pronto per il calcio d'inizio e a questo punto a questo punto siamo pronti per cedere la linea per cedere la linea e io direi che a questo punto andiamo da Piccinini subito siamo pronti vero Sandro siete pronti ragazzi Samba a temere il calcio d'inizio per il primo tempo grazie Ilaria allora buonasera a tutti anche dalla nostra postazione stadio Brianteo la grande attesa è finita momento della finalissima tra il Cervia e l'All Stars è arrivato e dunque andiamo subito ricapitolando le formazioni vediamo subito come giocherà il Cervia gli undici finalisti dunque vediamo l'ordine della grafica poi vedremo lo schieramento Bertaccini Arrieta Borriello Missiroli Scandroglio Bordignon Spagnoli Olivieri Giuffrida Bondi Gualtieri Cobra poi Yelpo Vierkvod Bergomi Baresi Zoro Giuseppe Baresi Evani Leonardo Signori Schillaci di Napoli Ciccio Graziani da una parte Franco Colomba dall'altra sulle panchine l'arbitro Massimiliano Rizzello di Bologna accanto a me dunque Sebino Nela non vorrei chiederti i pronostici ma sarà una partita equilibrata? secondo me molto equilibrata i ragazzi di Ciccio è vero stanno benissimo fisicamente finito il campionato adesso stasera naturalmente ci sarà grande impegno perché vale moltissimo questa partita per tre di loro soprattutto ma attenzione a questi vecchietti che sono terribili benissimo vedremo intanto Ciccio Graziani con Giancarlo Magrini Ciccio molto teso naturalmente ha ottenuto il suo obiettivo ha vinto il campionato con 72 punti 9 di vantaggio sul Virtus Villa 60 gol fatti 30 subiti un campionato straordinario a Serbia che è uscito alla distanza ma naturalmente per i ragazzi di Graziani la serata che conta è questa è questa la finalissima è questa l'occasione per coronare il sogno appunto di campioni di vivere il ritiro precampionato con Inter Juventus e Milan tre di loro saranno i prescelti prima i cinque prescelti da voi dal pubblico grazie al televoto poi tra questi cinque tre verranno scelti appunto direttamente dalle società sembra tutto pronto per partire allora da destra a sinistra dei vostri teleschermi in questo primo tempo in Serbia da sinistra a destra l'All Stars tutto pronto via si comincia continua a piovere terreno abbastanza appesantito sicuramente scivoloso in questo avvio quindi un avversario in più per i ragazzi di Graziani ce ne sono anche un paio che non sono al massimo della condizione qualche acciaco qualche infortunio attacca subito intanto Giuseppe Baresi poi è fermato Scandroglio attendiamo qualche istante anche per cattino lo schieramento Graziani ha parlato di un modulo inedito un 3-5-2 e intanto Spagnoli alla caccia del pallone Lissiroli Borriello porta palla lo scambio con Giuffrida attenzione inserimento e tira e poi si salva subito Yelpo molto pericoloso il Cervia subito con l'inserimento di Gualtieri bravo Gualtieri operare questo taglio e sono rimasti un po' sorpresi sia Vierklud che Franco Baresi non hanno chiuso bene attento Yelpo però prima ammucchiata in area di rigore parte il cross Yelpo in anticipo per via poi da parte di Evani provano a ripartire con Di Napoli c'è Beppe Signori dall'altra parte c'è Schillacce che sta arrivando ancora Di Napoli cerca spazio ma c'è anche l'anticipo di Missiroli su di lui si riparte intanto subito De Zan a bordo campo con un grande ospite Davide e io sono qua ciao Sandro sono qui con un grandissimo calciatore un grandissimo amico dei ragazzi Clarence El Sedor senti un inizio subito scoppiettante dei nostri Clarence sono scatenati ormai si sono sbloccati sono contento per loro che sono riusciti a prendere questa soddisfazione di vincere il campionato adesso si godono quest'ultima partita senti tu sei venuto tante volte a trovarci a Cervia li conosci cosa avranno nel cuore se con lo te stasera sinceramente non credo che possa mettermi nei loro panni però sicuramente emozioni molto molto belle sono cresciuti tutti quanti e posso far molto piacere grazie Clarence Adesandro grazie grazie Davide dunque due minuti di gioco 0-0 però partita subito scoppiettante con Evani che prova a ripartire Cervia ben sistemata all'indietro naturalmente è molto importante anche la prestazione di questa sera qui la regia ci ricorda anche i numeri per televotare importante la prestazione ma probabilmente il pubblico giudicherà anche sulla base della stagione dei giocatori del Cervia sulla base anche della simpatia per premiare magari il personaggio più amato chissà staremo a vedere quale criterio verrà scelto certo è che comunque anche la prestazione di questa sera ha un suo valore sicuramente sicuramente verrà premiato naturalmente il valore di tutta la stagione si va a simpatie e questo è fuori di dubbio ma credo anche la prestazione di questa sera e credo questa sera vedendo le All Stars giocare gli attaccanti potrebbero mettersi potrebbero mettersi in mostra perché Barese e Viertel vogliono tenere molto alta la linea difensiva quindi ci potrebbe essere spazio per loro avete visto l'attenzione sul volto di Giuffrida uno dei grandi protagonisti di questa stagione 9 gol per lui una stagione con qualche problema anche un infortunio però sicuramente un bilancio positivo per il ventenne cinesino Giuffrida Romano intanto è Zorò Messina ha dato l'ok a Zorò e a Di Napoli per partecipare a questa partita quindi un ringraziamento particolare alla società del presidente Franza allora Zorò cerca spazio è tutto chiuso però Cervia ben asserragliata all'indietro soltanto due in avanti Giuffrida e Gualtieri poi probabilmente appunto un 3-5 le due linee difese di centro campo si riparte ancora da Evani in profondità lancia però troppo a lungo non ha problemi Bertaccini forse c'era stata una trattenuta su Di Napoli che si lamentò si Missiroli probabilmente ha trattenuto per un braccio Di Napoli che ha cercato subito ecco qua ha cercato subito l'arbitro però l'arbitro non ha ritenuto fosse punizione il mestiere di Mattia Missiroli cosiddetto poeta del Cerdia alla caccia del pallone Di Napoli poi però conquista pallo Olivieri c'è spazio per Bondi punta l'avversario Bondi basso il fondo cross basso pericolo palla ancora buona Gualtieri si gira parte un cross abbastanza pericoloso la palla è buona all'indietro il gran tiro e c'è il gol e c'è il gol un vantaggio Bordignan con il suo destro ha trovato l'angolo il brasiliano il quarto minuto parte in vantaggio in centro bravo bravissimo ha colpito benissimo con grande potenza niente da fare per Jelpo è bellissimo questa immagine va a raccogliere l'applauso di tutti i suoi compagni compagni di un'annata intera quindi va verso la panchina festeggiare è corso balletto è corso samba rivediamo il destro secco di Mario Bordignan 25enne di Campinas si è aggregato al Cervia nel corso della stagione ha conquistato la fascia proprio nel corso delle amichevoli con un gran gol e adesso con un gran gol si ripresenta in questa finalissima quinto minuto dunque Cervia in vantaggio è una calcia del pallone c'è Beppe Baresi largo c'è Zoro Ivani prolunga verso Di Napoli che si muove molto un po' statico in questo avvio Schillaci troppo lungo per lui torniamo a bordo campo con Davide a te Davide e sono qui con Ciccio Graziani sorride perché l'inizio per i nostri ragazzi per i suoi ragazzi è stato veramente buono ottimo ottimo con questo gol di vantaggio ma poi stiamo giocando bene siamo messi bene in campo stanno lavorando molto bene i ragazzi e speriamo di fare una buonissima figura poi ricordiamo che di fronte c'è una grande squadra mentre attaccano ancora i nostri a te Sandro Gualtieri va a incrociare giù Frida c'è il recupero poi Zoro difende palla c'è stato un grande recupero di Vierkvod che ha fatto una super diagonale poi Zoro ancora Davide a te se non è concluso ero qua con Ciccio grande squadra e molti di questi li conosci bene li conosco molto bene con qualcuno ho condiviso momenti calcistici straordinari e comunque penso che anche per la gente sia molto bello piacevole di vedere in campo dei giocatori che al calcio italiano hanno dato grandi soddisfazioni a te Sandro l'intervento di Baresi ancora grande senso della posizione per lui poi Scandroglio riapre in mezzo al campo Spagnoli verticalizza subito l'1-2 Gualtieri poi Giuffrida che era rimasto centrale palla ancora buona cerca il numero Olivieri poi Spagnoli riapre improvvisamente spazio per Bondi ma c'è fuori gioco la palla la fanno girare bene con stasera come ha detto come ha detto Ciccio li sta vedendo proprio bene li stiamo vedendo bene bene anche noi molto presenti in partita tatticamente la squadra la squadra apposta si vede insomma che c'è voglia di mettersi in mostra e di fare una gran bella figura Beppe Signori ha provato il lancio ma c'è molta attenzione a Rietro di conclusato palla poi Spagnoli in avanti cerca di farsi vedere Giuffrida l'apertura invece dalla parte opposta dove arriva sempre Bondi grande galoppatore della fascia all'indietro spazio per Gualtieri cerca l'1-2 ancora il tiro e c'è il gol e c'è il gol del 2-0 ha trovato il barco buono ancora Bordignon stavolta sorpreso nettamente Gualtieri che forse non ci aspettava il tiro sul primo palco ancora una volta Bordignon si presenta bene si presenta bene per il tiro devo dire un po' in difficoltà la nazionale all star i centrocampisti non aiutano molto la linea la linea difensiva c'è qualche spazio e in questi spazi devo dire Bordignon ci si infila sempre molto bene trova sempre il tempo giusto e lo spazio giusto per poi colpire qua anche la deviazione di Vierkwood l'ha aiutato ha toccato leggermente Vierkwood e questo giustifica diciamo così la sorpresa di Mario Yelpo dopo 8 minuti il Cervi ha fatto due gol con il brasiliano Bordignon che vuole conquistarsi un posto nella rosa dei 5 impressionando i telespettatori con due gol in 8 minuti davvero grande avvio per lui Scandroglio riapre larghissimo sempre Bondi si fa vedere Giuffrida in mezzo al campo però Olivieri cerca spazio Spagnoli intercettato però Beppe Baresi lancio si è allargato Leonardo eccolo deciso Scandroglio su di lui giudicato falloso chiede subito scusa Bobo Scandroglio ma era troppo bella per entrare in scivolata questa palla ha chiesto immediatamente scusa troppo largo per Zorone naturalmente c'è qualche problema di intesa nell'All Stars infatti si scatena il pubblico che vuole sostenere i propri beniamini proprio nella serata è più importante quella della finalissima e naturalmente adesso l'attesa è crescente perché tra praticamente poco più di un'ora conosceremo il verdetto finale dopo un anno di speranze e di sogni Scandroglio cambia tutto dall'altra parte mette giù con calma Gualtieri attenzione a Gualtieri il cobra Gualtieri riesce a dialogare filtro e pallone la palla è buona attenzione Gielpo si salva su Giuffrida ancora palla ancora viva Giuffrida ha avuto la grandissima occasione Rieta pronto al cross sul secondo palo mette giù Olivieri il tiro Rete Rete inarrestabile questo Cerve di Ciccio Graziani che stasera sta mettendo in seria difficoltà la difesa la difesa degli All Stars e ancora una volta trovano trovano bene la Rete questa volta Olivieri col suo sinistro che va a incrociare molto bene poco prima aveva avuto un'ottima occasione invece Giuffrida un improbabile palonetto Yelp era molto vicino a lui doveva cercare un'altra soluzione molto bello invece questa volta Ciro Olivieri dunque mette il sigillo anche lui 22enne napoletano tifosissimo del Milan Ciro Olivieri due gol in stagione per lui un grande avvio di finalissima anche per Olivieri 3 a 0 la situazione abbastanza imprevedibile visto i nomi schierati ma naturalmente qui conta anche soprattutto l'anagrafe e anche la voglia naturalmente dell'occasione della vita per questi ragazzi però adesso probabilmente qui i campioni diciamo vorranno reagire con un po' d'orgoglio almeno conoscendo qualcuno di questi ecco già vedo un fallo per esempio abbastanza duro di Baresi filtra il pallone Gielpo in vantaggio rilancia subito con calma Scandroglio controlla beh tu conosci bene Viercovod sì conosco bene Viercovod poi naturalmente con tutti gli altri sono stati i miei avversari naturalmente togliendo Zorro e Di Napoli allora Scandroglio verso Bondi vuole il controllo cerca spazio ancora Olivieri poi Spagnoli sempre il playmaker il regista non ha problemi smista verso Arrieta si fa vedere ancora Spagnoli pronto a cambiare con la sciabolata classica verso Bondi mette giù esce Viercovod sta arrivando Scandroglio velocissimo Bondi preferisce accentrarsi forse c'è falla è così spot per noi morbida stracciatella golosi cioccolatini ripieni nascosti da una spirale di gelato al Gianduia la passione non finisce mai nuovo cornetto Passion da Algida tutto è pronto dodicesimo 3 a 0 per il Cervio è pronto Spagnoli sembra intenzionato a battere lui lui che è stato grande protagonista della stagione 5 gol alcuni con delle punizioni straordinarie allora Lorenzo il magnifico Spagnoli tutto è pronto prova il grandestro ed è rete è bellissimo questo grandissimo gol Spagnoli questo è veramente un grande gol punizione tirata benissimo angolatissima con la forza giusta a girare con il suo destro molto molto bravo proprio in l'occasione più importante Spagnoli Spagnoli trova il gol che potrebbe significare l'inclusione nella rosa dei 5 eccezionale il suo destro Ierco è arrivato con un attimo di ritardo eccolo qua Spagnoli Ierco forse fino a qualche minuto fa pensava di passare una serata decisamente più tranquilla un po' più tranquilla indubbiamente 4 gol in 12 minuti non erano prevedibili si muove signori cerca spazio cerca spazio per il suo sinistro non lo trova ancora spot per noi tutto è pronto per il rinvio di Davide Bertaccini una stagione eccezionale per il 32enne di Cesena giocato anche in C1 con la fermana Bertaccini intanto qui il pallone è troppo largo possono respirare un po' i giocatori dell'All Stars con Franco Colomba in panchina che magari opererà qualche cambio nella ripresa per dare un po' di respiro intanto potete continuare a televotare perché si avvicini il momento della grande scelta della Rosa dei Cinque dai quali poi usciranno fuori i tre vincitori di fatto i tre ragazzi che si aggregheranno nel ritiro precampionato a Juventus al Milan e all'Inter e saranno scelti direttamente proprio dalle delegazioni delle società che sono presenti qui c'è Castazio signori doppio dribbling poi pallone forse uscito si prosegue filtra il pallone attenzione il top e c'è il gol di Napoli ha trovato il guizzo con l'esterno forse il pallone era uscito ma in ogni caso l'arbitro è considerato buono il cross e di Napoli l'opportunista rivediamo Bertaccini non ci arriva grande controllo e poi tocco di esterno sinistro delizione lui tecnicamente è bravissimo ha avuto grandissima calma in questa in questa area piccola affollata stop di esterno sinistro mette sul pallo lontano beh si voleva lo spettacolo lo spettacolo c'è perché abbiamo già visto 5 gol in 15 minuti reagiscono all stars con Rearco di Napoli Bertaccini che però va detto non è al meglio questa sera con un problemino alla spalla ma naturalmente qui non potevano saltare l'appuntamento cioè il laccio di profondità è fuori gioco fuori gioco qua cominciano a dire qui sta cambiando qualche cosa beh ti ho detto che ci stiamo scaldando siamo un po' arrugginiti ma piano piano ora non so se il riscaldamento quanto dure però credo che possiamo fare sicuramente meglio avevi una proposta per il secondo tempo sì i ragazzi mi hanno chiesto di partire da 0 a 0 perché sarà un'altra formazione quindi non so se sarà possibile a te Sandro bene la giriamo qui agli autori di campioni chissà intanto vediamo Spagnoli che viene scaraventato a terra perché adesso non si fanno complimenti naturalmente poi quando si gioca anche per divertimento come Sebino sa bene nessuno ama perdere soprattutto 4 a 1 no nessuno ama perdere assolutamente Scandroglio spazio per lui si muove giù Frida che vorrebbe il gol Baresi grande Kaiser con intervento Doc diciamo così eccolo qua è un piacere rivederlo in campo anche se lui gioca spesso naturalmente con con gli amici per tenersi in forma e guardate un po' i suoi gesti che ben conosciamo a guidare tutto il reparto Baresi vuole scuotere i suoi eccolo qua che il nostro Bob Rex in regia ci ripropone l'intervento di Baresi ormai sono automatici quei gesti veramente Zoro spazio per lui Di Napoli cerca spazio per il cross Schillaci appostato attenzione Bertaccini in qualche modo dopo c'era il fallo di Schillaci spot per noi rivediamo qui l'intervento di Bertaccini forse un po' spinto da Totò Schillaci allora ecco il motivo del calcio di punizione già battuto siamo sul 4-1 per il Cervia Vierkvold rilancia in avanti alla caccia del pallone c'è Evani poi Zoro in avanti si fa vedere Leonardo che ha cambiato posizione ma ha cominciato laterale Evani ancora Zoro cerca spazio poi Di Napoli si è sistemato in mezzo invece Beppe Signori Baresi arriva anche lui poi cerca il pallonetto Signori Bertaccini non si lascia sorprendere allora andiamo da Ilaria Danica anche per un aggiornamento sul televoto Ilaria grazie Sandro e beh qui c'è da commentare la classifica che ora la regia ci propone perché dal caso state votando e state votando tantissimo ma insomma ricordatevi che il vostro voto sta decidendo un destino importante ora la vediamo la classifica in testa c'è Giuffrida poi c'è Arrieta al secondo posto Borriello al terzo Bondi al quarto Olivieri al quinto e da qui la zona calda quelli che in questo momento se finisse così rimarrebbero fuori Spagnoli Gualtieri Bertaccini all'ottavo posto al nono posto Bordignon e al decimo posto Scandroglio all'undicesimo posto il cuore del Cervia Missi Roli questa è la classifica Bordignon io sono con un amico di Bordi Mario è veramente cuore e anima ha detto io voglio far bene in campo però in questo momento non lo stanno votando da casa due una doppietta ha fatto cos'altro deve fare? niente bisogna che la gente lo voti per quello che ha fatto durante tutto quest'anno mentre era nella casa magari non ne ha tantissimi però non ne ha tantissima gente che lo conosce Bordi se non quelli che hanno imparato ad amarlo da casa perché ricordiamo è il nostro brasiliano insomma quindi non hai parenti stretti vicino allora faccio un appello io dai fai un appello a tutti i brasiliani che sono più di 13 di quelli che dicevi te ogni tanto in trasmissione dico oggi di collegarsi con l'Italia 1 per poterlo votare ma Mario oggi sta facendo bene spero che lo voti e che salga in classifica lo speriamo anche noi qui c'è un'altra un'altra zona calda altro goleador di questa partita che è iniziata benissimo per il Cervia sono con la mamma di Lorenzo Spagnoli buonasera allora Spagnoli in questo momento è al sesto posto cioè se finisse così proprio per una manciata di voti è fuori voi la futura moglie e la mamma dovete convincere il pubblico a casa a votare e io chiedo solo di non svegliarlo perché sta facendo un sogno bellissimo e spero che continui così però dipende da voi dipende anche da voi allora ritorniamo da te Sandro va bene grazie Ilaria abbiamo capito qui che i gol non bastano perché Bordignon per adesso è fuori ma non è detto che poi nel corso della serata non si cambia idea non si cambia atteggiamento gioco fermo spot per noi rivediamo l'intervento intanto su Ciro Olivieri autore di un gol questa sera e chissà che non abbia voglia di riprovare Spagnoli eh perché no da quella distanza potrebbe potrebbe anche provarci sono più soluzioni vediamo intorno al ventunesimo 4-1 per il Cervia tre uomini in barriere pronto Jelpo ma è pronto soprattutto il destro di Spagnoli ma c'è Bondi anche prova lui che una deviazione probabilmente sarà calcio d'angolo infatti ha provato Matteo Bondi con una soluzione diversa di potenza di potenza la distanza era notevole quindi ci poteva stare naturalmente questo tiro aveva colpito anche bene aveva tenuto bene palla bassa deviato Vierkvold in barriera attenzione al calcio d'angolo Bondi appostato nell'area di rigore parte il cross secondo palo Zoro salta bene fuori partita il contropiede vediamo lo scatto di Di Napoli grande falcata c'è Schillaci in mezzo Di Napoli cambia tutto dall'altra parte signori pronto a un nuovo lancio ancora per Di Napoli grande scambio ma non riesce il controllo ha rischiato qualcosa qua la squadra di Ciccio si è fatta prendere in contropiede su questo calcio d'angolo sono partiti bene gli All Stars e sono arrivati vicino dentro l'area di rigore si sono resi sicuramente pericolosi sentiamo come come la sta seguendo questa partita Claren Seedorf Davide ti aspettavi un inizio così dei nostri 4 a 1 subito non scherzano niente oggi tutto dentro no molto bene ma qui Moschino che cosa ti sta dicendo? mi sono dato un po' di massaggio sulla schiena che fai? no è un mio amico Seedorf dopo usciamo insieme mentre invece vedo che al mister sta succedendo qualche cosa al nostro mister è qui che si cosa c'è? cosa ti succede? ho tutte le mie scarpe nuove bagnate il mio amico Perone se arrabbierà stasera a te Sandro mitiche scarpe di Ciccio Graziani sfoggiate a controcampo più volte tanto attenzione a Gualtieri c'è una deviazione Yelpo 4 a 1 naturalmente in panchina avete già visto ci sono tutti gli altri componenti della rosa del Cervia anche gli esclusi eccellenti proprio a cominciare da Moschino che insomma forse avrebbe meritato di avere questa chance ma insomma i voti delle varie commissioni tecniche nel corso delle amichevoli che hanno deciso la formazione di questa sera sono stati diciamo così implacabile Nela ha qualche responsabilità ho delle responsabilità anch'io naturalmente attenzione c'è un fallo spot per noi incontenibile Di Napoli e Arrieta qui gli ha tagliato la strada l'esperienza qua di Di Napoli insomma appena ha sentito il braccio dell'avversario si è lasciato andare attenzione in amanti c'è anche Bergomi che vorrebbe sfruttare la sua esperienza sulle palle alte parte il cross attenzione Olivieri poi Giuffrida il più acclamato dal pubblico può partire il contropiede ma è sbagliato il lancio e in effetti l'All Star era completamente sbilanciato in avanti qui vedete intanto Braida Oriali Alessio Secchi rappresentanza delle tre società che poi a fine partita anche grazie all'intervento diciamo telefonico con i tecnici sceglieranno i tre giocatori dei cinque fra i cinque scelti invece da voi allora adesso Evani si riparte da Baresi si fa vedere Bergomi bella l'accoppiata Bergomi Baresi in difesa sembra che abbiano preso le misure adesso Sebbi si però è costato caro questo inizio di gara inizio un po' travolgente del Cervia sorpreso l'All Star che aveva bisogno di un po' di tempo per assestarsi scatta in avanti Beppe Baresi Scandroglio va a chiudere cerca il controllo il pallone va fuori nulla di fatto spot ancora perduto abbiamo rivisto l'intervento di Scandroglio è pronto Bertaccini allora circa venticinquesimo 4 a 1 la situazione se dalla regia Bob Wags mi dà l'ok rivediamo anche i numeri per il televoto attenzione però intanto Schillaci primo guizzo e fallo su di lui ecco qua occhio ai numeri 1-6-4-2-2-2 telefonia fissa oppure 4-8-4-2-2 con l'SMS per televotare i protagonisti parte il cross troppo lungo troppo lungo finalmente si è visto Schillaci sì finalmente si è visto Schillaci questa era una buona occasione secondo me però troppo troppo vicini i due giocatori signori Leonardo dello Stars quindi nessuno dei due ha potuto intervenire su questo pallone eccolo qua Totoschi grande impegno naturalmente un po' in affanno anche terreno pesante ma soprattutto la grinta dei ragazzi del Cervia adesso però c'è spazio per Baresi la sua caratteristica andatura Baresi nessuno si avvicina quasi per timore Zoro Zoro a tiro cambia tutto forse c'è fuori gioco è così di Napoli che si arrabbia con Zoro che ha ritardato un po' il passaggio hai qualche dubbio e qui guardate un po' il colpo d'occhio del brianteo straordinario nonostante questa serata purtroppo con tanto di temporale e temperatura quasi invernale attenzione a Signori conquista palla incrocia esce Bertaccini a coprire parte il cross la deviazione Bertaccini di conquista palla è stato bravo Bertaccini buono il taglio di Signori riceve palla da Di Napoli cerca la palla alta Bertaccini salta molto molto bene e fa su il pallone Barco Giuffrida Giuffrida destro secco non va ha cercato il primo pallone ha schiacciato un po' troppo questo questo pallone voleva cacciolando ha colpito bene voleva una deviazione vediamo forse intercettibile cosiddetto cinese Giuffrida romano ventenne grande rivelazione della stagione nove gol per lui e personaggio più amato uno dei più amati del pubblico avete sentito prima le ovazioni per Christian Giuffrida che però non è riuscito ancora a far gol questa sera anche se come abbiamo visto nel primo aggiornamento è in testa nella classifica del televoto a conferma anche della sua grande popolarità conta poco conta quello per il momento Bertaccini ventisettesimo calato un po' di tono la partita anche perché l'All Star ha preso un po' le misure dal punto di vista tattico e Cervi adesso fa più fatica a penetrare ci prova Olivieri verticalizza c'è fuori gioco anche se era rimasto un po' indietro Beppe Baresi fuori gioco comunque l'inserimento del Cobra Gualtieri si riparte intanto ecco le qua le scarpe di Ciccio ridotte malissime sta cambiando colore Di Napoli cerca spazio Zoro pensa al tiro poi cambia idea cambia tutto poi Beppe Baresi All Stars sta cominciando a venire fuori cerca spazio Leonardo guardo ma non c'è non c'è modo di superare Scandroglio torniamo da Davide con Diego Davide e sono qua con Dieghito senti quanto daresti per essere in campo stasera? Sicuramente sarebbe una grandissima emozione però io penso che alla fine io sono arrivato purtroppo tardi ho avuto quello infortunio quindi c'era per esempio Piro che a Parma forse è stato lui che mi ha diciamo rubato la fascia se lo meritava forse di più di me senti qui i nostri stanno giocando alla grande stasera te l'aspettavi? Ma sì sicuramente è una partita molto molto che stiamo giocando bene però sono emozionato devo dire la verità non riesco a parlare perché sono contento per i miei compagni andiamo a Piccerdi al volo dimmi bellissima partita bella partita bellissima emozione grande pubblico è una serata magnifica per tutti noi senti l'ultima il nostro capitano Ricci le all starci hanno la tua età io volevo giocare di là almeno così davo un balladio basta e finiva così a te Sandro grazie e in effetti il gran capitano Ricci qui in età quasi più da all star che da che da campioncine però è stato un grande in questa stagione eccezionale ha avuto un ruolo veramente fondamentale c'è spazio ancora per Olivieri scatta giù Frida si muove Gualtieri attenzione a fuorigioco Baresi ha organizzato la difesa in linea incredibile eccezionale Baresi nel giro di un quarto d'ora ha cambiato la situazione organizzando una difesa in linea che adesso sembra insuperabile perché se no farebbero troppa fatica chiaramente devono salire un po' devono fare il fuorigioco i ragazzi del Cervi ancora non l'hanno capito ritardano troppo questo passaggio sugli esterni straordinario ha preso in mano un po' la situazione Baresi è veramente uno spettacolo quello che è successo in questi minuti dopo un avvio con sbandamenti totali adesso Baresi ha sistemato la situazione comunque credo che gli viene ancora retta si alza il braccio sicuramente l'assistente anche quello è bene Di Napoli Zoroi due del Messina parte il cross tutto fermo sguardi attentissimi in panchina a seguire con grande trepidazione l'andamento della partita si avvicina anche il momento del verdetto di Napoli attenzione Baresi finge il tiro poi c'è Evani Beppe Baresi cross intercettato si chiude bene comunque il Cervia si batte Beppe Baresi con grande veemenza lui parte attenzione Franco Baresi che non si lascia sorprendere bello il triangolo con Evani cambia tutto Di Napoli c'è signori ma anche Schillacci in mezzo il sinistro Violetto Bertaci adesso è un'altra squadra adesso stanno giocando bene e vogliono fare gol bravo Beppe e signori esperienza sfortunata in Grecia fino a dicembre perché poi è tornato via insomma la società aveva parecchi problemi finanziari adesso è in cerca di una nuova avventura chissà all'estero ma chissà che non si presenti anche qualche occasione italiana parte il calcio d'angolo nel mucchio Zoro anticipato poi Beppe Baresi adesso soffre un po' a Cervia Franco Baresi l'ha rimasto ultimo classico trentunesimo 4-1 il punteggio con calma Yelpo beffato due volte da Bordignon poi da Ciro Livieri poi da Spagnoli poi il gol di Di Napoli per accorciare le distanze questi numeri per televotare si avvicina il momento del verdetto rimangono pochi minuti più il secondo tempo intanto andiamo di nuovo in panchina Davide e qui c'è un gruppo molto molto allegro iniziamo da Gullo ciao ciao a tutti ma sei abbastanza allegro no no voglio dire allegrissimo proprio no ho rivisto vedo molto bene Baresi Franco come quando ci giocavo contro io vedo ogni tanto la stessa battuta dai basta va bene allora adesso invece c'è una battuta dedicata a Sandro ah Sandro c'è tanta carne al fuoco stasera tantissima ma ci sente un saluto a Franco a chi a Franco ciao Sandro ciao Sandro e poi invece mi segnala il grande Lampredi un cartellone che dice Di Matteo sei bellissimo ma è meno male va bene così a te Sandro grazie contropiede Leonardo Araujo attenzione di Napoli trattenuto col mestiere e c'è calcio di punizione qui Borriello chiede scusa tutto a posto rivediamo un po' Borriello aveva girato quindi costretto a commettere fallo non aveva molte alternative su Di Napoli scatenata naturalmente insomma quando prendono palla Di Napoli Osoro Sebino si sente la differenza si sente sì la differenza attenzione la caccia di punizione quasi allo scadere del primo tempo Spagnoli organizza i suoi è tutto pronto è pronto leppe signori di Napoli in mezzo c'è Schillaci sinistro violento Di Napoli ha cercato l'angolo lontano è pericoloso pericolosissimo ha tenuto bassa questa palla poi campo bagnato naturalmente dopo un rimbalzo diventa pericolosissimo per i portieri allora poco più di un minuto alla fine vi ricordo che qui allo stadio Brianteo sono presenti Arie Dobraida Lele Uriali e Alessio Secchi rappresentanza di Milan Inter e Juventus perché saranno loro dopo aver sentito telefonicamente i tecnici delle tre squadre a scegliere i tre giocatori che parteciperanno ai ritiri precampionato appunto di Juve Inter e Milan nel prossimo anno e sceglieranno fra i cinque scelti dal pubblico quindi siete voi a fare la prima scelta a costituire la rosa dei cinque e poi i tre rappresentanti delle società sceglieranno invece i tre giocatori che risulteranno in pratica i vincitori quelli che realizzeranno il sogno di campione tutto questo tra poco praticamente perché sta finendo primo tempo poi una quarantina di minuti sapremo sapremo tutto si riparte intanto con Bordignon autore di due gol per il momento non sono serviti abbiamo visto il primo aggiornamento Bondi mette in mezzo dall'altra parte tutto vuoto Gualtieri supera Ielpo doppio dribbling Ielpo torna su di lui Giuffrita tutto regolare dice l'arbitro forse c'era stato un falletto forse anche qualcosa di più su Gualtieri si prosegue se l'è cavata col mestiere Ielpo ma non c'è più tempo finisce qua il primo tempo dunque 4 a 1 il risultato Sebino lo spettacolo non è mancato rivediamo l'ultima azione questo poteva essere un altro gol poteva essere questo per il Cervia buon primo tempo hanno giocato bene credo che il pubblico si stia divertendo e ce lo sta facendo anche sentire pubblico scatenato allora continuate a votare l'ultimo ricordo anche della regia con la grafica dei numeri sms e telefonia fissa ecco qua 164 222 telefonia fissa oppure 484 222 con gli sms votate scegliete la rosa dei cibi cuore campioni dentro adesso è un momento bellissimo importante so cosa state sentendo so l'emozione sento quasi le gambe che tremano per voi tre di voi realizzeranno un grande sogno tre grandi squadre importanti tanta gente vi ha seguito questi mesi siete stati esempi per tanti 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 ragazzi e giovani adesso è il momento di dare il massimo io sono con voi guarda l'attenzione di Cristian Giuffrida viaggio Antonacci è con voi ragazzi ma adesso con Clarence Zedorf che mi ha detto guarda che io devo andarle a salutare negli spogliatoi allora Clarence vado 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 ma adesso si vado subito allora mentre Clarence grazie Clarence mentre li raggiungi si mi lasci l'ombrello grazie a Clarence Zedorf vogliamo vedere insieme ragazzi la graduatoria è l'unica volta che la potrete vedere insieme la vediamo insieme anche con voi da casa dopodiché fino alla fine non saprete più che cosa sta succedendo con i voti da casa allora vediamola eccola qua in testa in questo momento il più votato è Cristian Arrieta al secondo posto Cristian Giuffrida è qui a leggerli tutti è salito è salito Bordignon a suon di gol si è fatto spazio poi c'è Borriello al quarto posto Spagnoli al quinto Olivieri al sesto Bondi al settimo Gualtieri all'ottavo Bertaccini al nono e poi Scandroglio è decimo e Mattia Misiroli è ultimo fate le vostre considerazioni rappresentanti di Milan Inter e Juventus mi raccomando riflettete noi ci vediamo tra poco il secondo tempo con Sandro Piccinini e con Sebino Nela di questa partita il cuore è in campo qui a Monza tra poco la linea passa a Sandro Piccinini e a Sebino Nela per il secondo tempo le All Star mi sembrano molto più determinate ci sarà da divertirsi Sandro a te grazie Ilaria sicuramente sì perché c'è stato grande turnover Franco Colomba ha rivoluzionato la squadra tutto pronto per il secondo tempo l'arbitro Massimiliano Rizzello di Bologna controlla il cronometro allora Cervia da sinistra a destra dei vostri dire schermi si riparte dal 4 a 1 del primo tempo nell'All Star sono entrati in porta intanto c'è Bordone non più Yelpo poi abbiamo visto in campo Eranio Nava Crippa Massaro Rizzitelli e Monelli eccolo qua Bordone ma sono rimasti in campo anche i due grandi vecchi della difesa cioè Bergomi e Baresi e anche Beppe Baresi è rimasto in campo ma si è spostato a sinistra forse una difesa a 5 adesso in questo secondo tempo comunque staremo a vedere naturalmente tutti confermati nel Cervia perché devono battersi fino all'ultimo a meno di infortuni era previsto appunto che giocassero tutta la partita gli 11 finalisti come è normale attenzione subito in avanti Giuffrida cerca spazio doppio rimpallo per Gualtieri anticipato proprio da Bergomi pronto a rilanciare Cervia che prova a ripartire come nel primo tempo tutto all'attacco tutto all'attacco naturalmente vogliono mettersi in mostra fino all'ultimo questi ragazzi e bisogna vedere invece da parte delle All Stars se Colomba ha trovato poca soddisfazione nei primi 45 minuti o era già tutto deciso dall'inizio insomma questi cambi immagini qualche polemica eh sì bufera nel dopo partita intanto avete visto prima Bordignon che grazie ai due gol ha guadagnato posizioni era arrivato nei primi 5 ma naturalmente tutto è momentaneo tutto può cambiare con ancora il secondo tempo a disposizione vi ricordo che anche questa sera come sempre nelle amichevoli organizzate dal Cervia l'incasso sarà devoluto in beneficenza in questo caso alla cooperativa sociale a Goran 97 a Lavo che è l'associazione volontari ospedalieri e alla fondazione Magica Cleme che si occupa diciamo di far compagnia di far divertire in qualche modo i bambini malati queste le iniziative che hanno fruttato per esempio nelle amichevoli precedenti circa 700 mila euro quindi un motivo in più è stato diciamo così per seguire le partite del Cervia al di là dello spettacolo garantito poi in campo intanto Baresi ancora lui ha sostenuto l'azione pronta a ripartire e prova a ripartire anche Massaro eccolo qua Baresi che rilancia c'è spazio per un possibile contropiede con Monelli che è stato un idolo dei tifosi proprio qui del Monza con lo stesso Massaro qui forse c'è un fallo l'arbitro lascia proseguire Missiroli che era proprio in coda alla classifica del televoto sa che non possa guadagnare qualche posizione anche lui nel secondo tempo si può ribaltare tutto Bordignon cerca spazio l'inserimento di Olivieri l'anticipo di Bergomi molto attento Ciro Olivieri un gol pesante per lui poi Monelli che si è sistemato a sinistra Beppe Baresi cerca spazio è lui che imposta con calma allo star cerca di far calare un po' il ritmo di gioco per poter approfittare poi magari di qualche momento distrazione degli uomini di Ciccio Graziani gira molto di più il pallone adesso con Stefano Nava lancia in profondità forse l'intervento di Borriello non è regolare l'arbitro lascia proseguire anche per la norma del vantaggio e poi interviene su Eranio fallo su Eranio sempre comunque molto aggressivi in mezzo al campo sono aggressivi sono aggressivi ma a parte anche adesso lo star insomma vuole dare un senso diverso a questa partita è stato troppo brutto troppo brutto il primo tempo e comunque il Cervia deve continuare nella sua partita Ciccio Graziani abbiamo sentito molto soddisfatto questa sera dei suoi ragazzi ancora un fallo rivediamo in mezzo al campo non si fanno complimenti un fallo molto deciso su Arrietà si riparte proprio Arrietà Bordignon vorrebbe il pallone tocco per lui pronta a ripartire poi c'è Borriello all'indietro Missiroli non vuole rischiare Bertaccini andiamo a bordo campo Dezan con Moschino ed eccoci qua Moschino ti vedo agitato si vede che manca tocchi magici tocchi vellutati manca Moschino dai Davide stanno scherzando stanno comportando molto bene i miei amici poi una curiosità qui in panchina c'è un telefono c'è la Bozzini che è il preparatore dei portieri ed è il telefono di Bertaccini Bertaccini vi abbiamo raccontato la sua storia sta per diventare papà e per lui potrebbe arrivare chi lo sa questa sera la telefonata più importante la telefonata che magari gli dici Berta sei papà a te Sandro auguri allora a Bertaccini eccolo qua segue con grande attenzione lo svolgimento dell'azione ancora un intervento falloso Baresi sembra più avvelenato Sebino non ci stanno a perdere ma è giusto anche che sia così poi lo sai cosa c'è professionisti siamo professionisti i ragazzi che sono in campo sono stati professionisti per tantissimi anni questa sera il pubblico non è certamente dalla parte loro e questo infastidisce ancora di più oltre che il risultato c'è anche questo elemento l'anticipo poi grande recupero in fase di copertura di Nava pronta a ripartire lui va a pressarlo Bondi sicuramente ottimo nel primo tempo Matteo Bondi adesso c'è Spagnoli che cerca l'impostazione e qui c'è un fallo in mezzo al campo spot per noi Arrieta va a recuperare la sua posizione mentre intanto è ripreso il gioco con Beppe Baresi che imposta per Massaro poi si muove in avanti Monelli che si è un po' accentrato adesso di nuovo Massaro cercava lo scambio con suo ex compagno al Monza ma riparta ancora il Cervia in avanti Gualtieri c'è Giuffrida che si fa vedere non c'è spazio per lui difesa capitanata da Baresi adesso è molto più organizzata molto difficile penetrare Crippa c'è un varco per Eranio cerca spazio Eranio attenzione il gran tiro e Bertaccini riesce a salvarsi bravo Bergomi questa sovrapposizione Eranio gli ha servito bene la palla però il tiro troppo centrale Bertaccini riesce a respingere la diversità degli ostani in questo secondo tempo insomma è facilmente visibile nel primo tempo squadra troppo sbilanciata troppi troppi attaccanti invece adesso molto più equilibrio soprattutto in mezzo al campo più ancorata nella fase difensiva la regia ci ricorda sempre i numeri per il televoto naturalmente c'è ancora tempo circa mezz'ora allora per decidere il destino dei finalisti di campioni cinque giocatori scelti da voi tra questi cinque le società sceglieranno i tre che seguiranno poi il ritiro di Juve Inter e Milan nella prossima stagione imposta adesso il gioco con calma Eranio chiede l'1-2 ancora Eranio Bergomi si propone ancora grande condizione per lo zio Bondi però che è davvero straordinario nella sua copertura uomo di fascia eccezionale che può coprire sia la fase difensiva sia quella offensiva parte il cross e Bertaccini attento nonostante un pallone distinto si pallone bagnato sappiamo la pericolosità per i portieri lui sceglie bene il tempo non se lo fa sfuggire bravo si riparte con calma l'apertura dall'altra parte c'è Arrieta pronto al cross basso ancora Arrieta ma c'è Beppe Baresi in vantaggio e poi Franco Baresi che riporta subito in avanti i suoi torniamo da De Zand Davide un'epoca speciale dalle tribune ci ha raccontato la nuova tutta eccoci qua con Sara Ventura stavamo ricordando nove mesi di partite a bordo campo con ogni tipo di tempo e anche quest'oggi dobbiamo dire la pioggia sta continuando ad aumentare però è bellissimo essere qui stasera Sara serata bagnata serata fortunata devo dire la verità è bellissimo mi sono commossa anche prima devo dire la verità è stato bello anche il rapporto che abbiamo avuto noi tutti insieme perché abbiamo vissuto dieci mesi anche noi quindi c'è stato reality dentro reality e niente anche con te scambiarci questi amichevoli io ho campionato devo dire io ho vissuto un'emozione fortissima vincendo il campionato speriamo stasera insomma i nostri preferiti vadano se di cosa ti rimane di questo sogno mi rimane il sogno a te Sandro grazie Davide grazie Sara intanto Arrieta si riporta in avanti sta incrociando Giuffrida Spagnoli autore di un gol eccezionale anche questa sera ancora una volta con una punizione straordinaria eccolo pronto a cross secondo palo Bergomi mette fuori Crippa prova a ripartire lui in avanti scattano Eranio c'è anche pronto Rizzitelli a partire ha cercato lui il numero prova di forza di conclusare il pallone su Bordignone abbastanza perplesso per l'agonismo di Rizzitelli ma lui è sempre stato così eh Ruggero è sempre stato così si è subito a metto ecco qua molto reattivo sembra anche bello bello tirato Ruggero Rizzitelli c'è ancora un cambio entra anche Carbone Angelo Carbone in campo qualche presenza anche per lui nel Milan del 94 che vinse campionato e Coppa dei Campioni con Capello c'era anche Nava per esempio anche il Milan intanto i numeri di Rizzitelli Baresi lascia passare Crippa Eranio riappe subito Berbergomi che ha uno scatto notevole ma non riesce a trenicare il pallone inaspettato Berbergomi fluidificante si nel primo tempo si è visto pochissimo ha pensato solo alla fase difensiva adesso da esterno sono già tre volte si si mette si mette in luce sembra anche in discrete condizioni fisiche 10 minuti se ne sono andati sempre 4-1 il risultato prova il Cervia andare in fondo con Giuffrida pallone troppo lungo per lui spot per noi qui sugli spalti nonostante il temporale in attesa del verdetto che si avvicina siamo all'undicesimo sempre più vicino il momento del verdetto prima della scelta dei 5 poi della scelta dei 3 Monelli spazio per lui cerca l'1-2 Rizzitelli ancora c'è anche Massaro Rizzitelli numeri l'apertura troppo profonda però niente da fare ancora spot per noi c'è grande entusiasmo sugli spalti con molti tifosi e tifose soprattutto che hanno seguito in Cervia in tutte le occasioni soprattutto in modo addirittura clamoroso nelle amichevoli che sono state allestite proprio per mettere per allestire la formazione finalista diciamo così per consegnare le famose fasce che hanno deciso gli undici di questa sera addirittura quasi 40.000 spettatori a Palermo mi sento anche un po' sollevato questa sera che non devo io decidere uno dei migliori non c'è la commissione tecnica di questi ragazzi molto contestata in qualche occasione beh sì ma è anche giusto insomma credo che sia credo che sia un fatto normalissimo insomma non è non è stato facile a volte scegliere scegliere su questi ragazzi voglio tanto ricordarvi che qui ci sono Ariadobraid Oriali Alessio Secco per Milan Inter e Juve eccoli qua che stanno seguendo con attenzione questa partita sono in collegamento telefonico con i tecnici Ancelotti Capello e Mancini perché naturalmente quando poi si dovrà scegliere fra i 5 sarà importante il parere degli allenatori perché questi ragazzi poi faranno parte a tempo pieno del ritiro sarà dura per loro Sebino anche dal punto di vista fisico sì sicuramente sì anche perché il ritiro di una squadra di Serie A è un ritiro pesante è un ritiro tosto comunque gli allenatori abbiano già scelto lo sai sì però bisogna vedere se il pubblico è d'accordo chiaro naturalmente sicuramente ci saranno dei preferiti seguiamo Giuffrida protacross c'è Gualtieri in mezzo ma Baresi si ferma e capisce che il pallone arriverà da lui poi con calma ancora Baresi davvero straordinario in alcune situazioni dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista proprio del tempismo degli interventi davvero sembra essersi fermato il tempo per lui Bergomi si fa vedere Ranio tutto chiuso per lui vi voglio ricordare e ringraziare anche i colleghi Walter De Maggio Fabrizio Ferrero che vi hanno accompagnato nel campionato nelle amichevoli con le loro telecronache naturalmente Beppe Dossena e tutti gli amici che hanno formato le varie commissioni tecniche quindi non so Ilario Castagnere Aldo Serena soltanto per fare qualche nome perché naturalmente sono stati tanti quelli che hanno seguito le vicende del Cervio e quelli che hanno poi operato attivamente per scegliere i finalisti si riparte da Spagnoli a metà praticamente del secondo tempo si avvicina il momento del verdetto sarà Ilaria Danico naturalmente in campo poi a dare la notizia prima della Rosa e poi a seguire la scelta delle società che consegneranno direttamente in campo le maglie ai prescelti Scandroglio Baresi ferma tutto pronta a ripartire Crippa cerca lo scatto Rizzitelli viene un po' strattonato con un fallo però di Missiroli che non è troppo d'accordo assolutamente no contatto tra i due Rizzitelli si lascia andare la palla è sfilata via lunga e Missiroli naturalmente non è d'accordo con l'arbitro secondo lui intervento era regolare lancio di Massaro troppo profondo sarei curioso di sapere da Davide De Zanne che è a bordo campo se nel corso dell'intervallo i giocatori sono stati informati dell'andamento del televoto per capire se qualcuno magari è consapevole del fatto di dover recuperare terreno in questo secondo tempo magari cercando un gol cercando di impressionare il pubblico non so se De Zanne è in grado di avere questa informazione credo guarda credo proprio di sì una costante del nostro reality era che un reality a tutto tondo nel senso che anche quando volevamo tenere segreto qualcosa i ragazzi non si sa com'è ma lo sapevano sempre per cui credo più che mai che sappiano quello che sta accadendo e credo più che mai che si impegneranno metteranno ogni goccia di energia in questa serata per scalare per scalare la classifica mentre mi sta dicendo Lampredi che molto probabilmente sta arrivando Totò Schillaci è stato un piacere rivederlo sarà un piacere sentire un po' la sua impressione il suo il suo impatto con i nostri ragazzi e in questo inizio veramente sfolgorante benissimo benissimo lui si è trovato nel momento peggiore della partita per l'All Stars quando Cervi era scatenato infatti inizio il primo tempo tutto il primo tempo sì sì praticamente la squadra dell'All Stars si è vista veramente molto poco più penalizzato è stato proprio lui davanti Totò non ha trovato veramente palloni giocabili all'indietro con calma Missiroli poi si riparte da Borriello che invece era nei primi 5 gli Spagnoli con le sue sciabolate ad aprire il gioco verso Bondi che ha un ottimo controllo mette giù Bondi una grande stagione per lui come detto Scandroglio pronto al cross attacca il Cervia cross un po' lungo Bordone non ha problemi grande Ivano Bordone rilancia il suo in particolare Massaro che però viene anticipato regolarmente allora si ripiazza il Cobra Gualtieri riparte il Cervia con un'altra azione però qui il lancio di Spagnoli è sbagliato c'è un po' di stanchezza ma considerata che la stagione del Cervia è stata lunghissima al di là delle partite di campionato ma insomma soprattutto le ultime amichevoli sono state davvero terribili anche dal punto di vista del dispendio emotivo andiamo da Ilaria D'Amico Ilaria eh sì Sandro eccoci qua sempre con la tensione quell'altra da raccontare quella di pancia di stomaco dei familiari che sono attenti a godersi lo spettacolo ma anche attenti a capire quali sono gli umori del pubblico umori del pubblico che si esprimono tramite il televoto e che adesso rivediamo a tutti quelli che ci stanno seguendo allora vediamole l'altro momento della classifica siete pronti a scoprirlo? sono tesissimi vediamola vediamola nella classifica al primo posto c'è Cristian Giuffrida al secondo posto c'è Bordignone al terzo c'è Arrieta al quarto posto c'è Spagnoli al quinto posto c'è Borriello fuori dal podio dal podio della possibilità di essere scelti Olivieri Gualtieri Bondi Bertaccini Scandroglio e Missiroli e quindi voglio subito sentire i genitori i genitori di Cristian Giuffrida ancora al primo posto Cristian e speriamo che continui così chi lo sta votando visto che lui diceva se siete qua voi poi chi mi vota mi sembra che siano in tanti a votarlo fino adesso tutte le persone che l'hanno votato prima stanno continuando ma io mi sto divertendo tanto è una bellissima partita e quindi penso solo a questo allora per il momento per il momento però mancano mancano al podio Gualtieri e qui c'è la mamma di Giacomo che deve spingere deve fare un appello signora Gualtieri bravo fratelli allora no 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 non riesce non riesce allora voglio presentarvi però la fidanzata di Giacomo Gualtieri guardate un po' eventualmente la consolazione ce la può avere ecco Arrieta Arrieta è lì e c'è la signora Arrieta in un anno difficile come è stato questo che ha avuto grandi soddisfazioni per Cristian e che è adesso qui a testimoniarlo sì sono qua a testimoniarlo ha fatto un bellissimo anno Cristian e sono veramente soddisfatta di lui veramente orgogliosa e si legge tutto sugli occhi nel sorriso di questa signora dal cuore grandissima dalla grinta ma c'è un'altra mamma che deve spingere spingervi a votare è la signora Bondi è lì è lì che arriviamo vi prego aiutate e votate perché se lo merita perché se lo merita? perché si è impegnato tutto l'anno e penso che abbia dato del suo meglio in realtà lo meriterebbero tutti ma sta a voi quella scelta quella scelta che dovete effettuare con i vostri voti continuate a votare Sandro torniamo da te grazie Ilaria noi non possiamo influenzare pubblico vero Sabino? assolutamente no dobbiamo stare attenti perché avevo un paio di preferenze non ti conoscessi Bondi poi lo scambio in avanti c'è Giuffrida ma c'è anche Bordon che sceglie bene il tempo senza problemi non è più cambiato il risultato 4 a 1 siamo al ventesimo manca circa una ventina di minuti alla fine e adesso è pronto a ripartire con calma Massaro lo scambio con Crippa si fa vedere Rizzitelli molto pimpante in avanti è rimasto largo Paolo Monelli eccolo cerca spazio si rinchiude però il Cervia che vuole mantenere il risultato vuole cercare naturalmente di non di sperdere il vantaggio e a livello individuale c'è ancora qualche minuto per mettersi in mostra sperando di raccogliere qualche telefonata decisiva Carbone 1-2 ma è Rizzitelli che va a chiudere il triangolo cerca spazio non ha il momento del tiro e poi però perde il tempo e allora Rieta può ripartire subisce anche fallo sbaglia l'appoggio Monelli grande lotta poi riparte Giuffrida attenzione Giuffrida Gualtieri sta arrivando Spagnoli Giuffrida cambia tutto ma calibro un po' male dall'altra parte arriva Ciro Olivieri cross ribattuto però terza l'occasione in questo contropeze si poteva fare di più era un'ottima occasione questa per il Cervia non ha guardato non ha guardato Giuffrida ha messo questa palla molto molto veloce impossibile per Spagnoli naturalmente raggiungere ha ripreso fiato Totò Schillacce adesso è con Davide Lezzan Davide ed eccoci qua sono con Di Napoli Schillacce Di Matteo senti abbiamo visto nella classifica Bordignon risalire e beh oggi stasera ha fatto due bei gol quindi è giusto che sia così dai attenzione attenzione Sandro a te Ciro Olivieri ancora lui gol del 5-1 nonostante primo intervento di Bordignon ma ha ribadito subito in rete gran gol di Olivieri bravissimo bravissimo ha seguito benissimo l'azione questa palla lunga su secondo palo bravo Bordignon a respingere al primo tentativo bravissimo ancora una volta Olivieri a mettere in rete entusiasmo del pubblico la Reggio ci fa rivedere il tiro al volo Bordignon poi allora rimane lì Olivieri trova subito la coordinazione per il 5-1 a te Davide grande gol di Olivieri beh grande gol ma penso che stasera è una bella serata peccato per la pioggia però i ragazzi si meritano tutto questo perché hanno sosperto parecchio quindi è la loro serata che si divertono a proposito di serata per loro è una notte magica e tu di notte magiche totoschillaci te ne intendi sono passati tanti anni quindi a me rimane soltanto il ricordo a loro alcuni di loro si prospetta un grande futuro quindi mi auguro che alcuni di loro percorrere la mia strada senti il ricordo è rimasto a tutti molto bello chi ti è piaciuto questa sera? ma sono tutti bravi guarda io ho visto una squadra affiatato c'è la mano del mister di Ciccio Graziani quindi e l'hanno dimostrato naturalmente la differenza si è notata perché loro sono molto più giovani e quindi giocano da un anno quindi noi abbiamo cercato di fare più che quello che potevamo fare quindi da Di Napoli a Di Matteo allora? ma sto con due grandi bomber quindi per me è un onore stare qui stasera sicuramente mi dispiace per il tempo perché doveva essere insomma una serata di festa va bene così comunque dai Alessandro grazie grazie allora Arrieta Bondi vorrebbe il pallone tutti vogliono mettersi in mostra in questo finale per influenzare un po' i telespettatori che stanno votando c'è riuscito Ciro Olivieri con un gran gol adesso un tiro fuori spot è per noi Spagnoli che ha provato il gran tiro il gioco ripreso con il rinvio verso Monelli prova a mettersi in mostra ancora qualche minuto per voi il televoto terminerà proprio a fine partita sarà Ilaria D'Amico a sancire la fine del televoto quindi approfittate degli ultimi minuti tanto il lancio ma Scandroglio attentissimo molto bravo Scandroglio ma per il momento è fuori anche lui dai primi cinque Scandroglio pronto a ripartire cerca spazio in mezzo verso Borriello era al quinto posto utile quindi in una posizione a rischio Borriello con Olivieri che lo incalzava adesso Olivieri ha fatto un gol che quindi potrebbe essere anche importante per fargli guadagnare terreno Spagnoli lo scambio ancora con Gualtieri gira il pallone Arrieta nato in America ma poi si è trasferito giovanissimo in Spagna Arrieta Spagnoli anche lui esperienze di serie C come Bertaccini poi pallone per Gualtieri forse una trattenuta di Crippa che però in qualche modo riesce ad avere la meglio poi c'è anche Filippo Galli che è andato a riformare con Baresi una bella coppia centrale spostando sulla fascia Beppe Bergomi con calma Beppe Baresi c'è un po' di stanchezza dicevo la stagione è stata lunga oltre al campionato le amichevoli per i sancieri finalisti che sono state molto dispendiosi dal punto di vista proprio emotivo a parte le partite le amichevoli chiaramente anche la pressione su questi ragazzi con tutte queste telecamere tutti i giorni insomma credo che abbia pesato un po' allora intanto cerca spazio proprio Crippa Eranio voleva il pallone Baresi pronto a ripartire in avanti poi va a proteggere Miss Tiroli c'è un fallo però attenzione calcio di punizione spot per noi pronto per la punizione prima andiamo da Davide con Ciccio Davide ed eccomi qua Ciccio Schillaci ti ha fatto i complimenti hai detto qui si vede la mano di un grande mister vabbè mi pagherò non un caffè dieci caffè solidarietà solidarietà tra bomber no? sì no no mi fa piacere stasera stiamo giocando bene la squadra è abbastanza corta in fase difensiva in attacco ci muoviamo molto bene stiamo facendo molto bene d'altronde loro sono molto bravi e ci stanno mettendo anche un po' in difficoltà in qualche circostanza intanto è sempre 5 a 1 però eh sì beh il risultato l'abbiamo quasi acquisito quasi male che va forse la pareggiamo questa partita l'ultima cosa penso che ti faccia piacere fa piacere a tutti noi stanno arrivando decine di migliaia di voti per i tuoi ragazzi ma io sono contento abbiamo vissuto tutti un anno magnifico sia sotto il profilo tecnico che soprattutto sotto il profilo umano ricorderemo tantissimo quest'annata e siamo contenti che il pubblico si sia affezionato a noi perché crediamo di aver dato dei valori veri importanti da trasmettere al calcio al calcio vero Sandro e come dice Ciccio Graziani il Cervi è come Valentino Rossi fa sempre spettacolo a te Sandro eh sì direi di sì è stato uno spettacolo continuo insomma anche perché è stato un programma del tutto innovativo il primo reality show sul calcio quindi ha destato enorme curiosità col passare del tempo l'interesse è cresciuto e la prova è arrivata proprio in occasione delle amichevoli di cui parlavamo prima con stadi stracolmi un po' dappertutto amichevoli giocate contro squadre importanti di Serie A quindi insomma con pubblico anche ben abituato però Milan, Sandro, Udinese Palermo, Lecce Siena, Messina Regina, Parma senza dimenticare poi la nazionale piloti Schumacher quindi sono state occasioni importanti per verificare anche la popolarità del Cervi che però non ha tralasciato i suoi impegni in campionato ottenendo una promozione che mancava da 36 anni quindi davvero una stagione trionfale sotto tutti i punti di vista compreso quello televisivo visto che insomma è un programma che ha avuto grande successo adesso siamo arrivati proprio al lato finale quindi in tutti noi c'è enorme curiosità per capire un po' le decisioni del pubblico e poi delle società intanto però non è finita ancora il Cervi all'attacco gran botta da fuori ma non ha trovato lo specchio stavolta Bordignon che pure aveva segnato due gol in primi minuti segue con interesse anche Giancarlo Magrini l'assistente preziosissimo di Ciccio importantissimo anche lui grande lavoro anche da parte di mister Magrini in questa stagione e di tutto lo staff naturalmente che ha lavorato Claudio Bozzini allenatore dei portieri Massimo Magrini Fabio Genovesi due grandi preparatori tutto lo staff naturalmente anche dal punto di vista televisivo degli autori e quindi un reality in reality come diceva prima Sara Ventura davvero nove mesi vissuti intensamente adesso eccola qua la rosa che sta partecipando con grande emozione a questo finale c'è un po' l'atmosfera dell'ultimo giorno di scuola questa sera a Monza con qualche lacrima che si preannuncia c'è un fallo in mezzo al campo spot è proprio ripreso con Baresi che ha smistato pochi minuti alla fine pochi minuti per voi per telefonare Monelli c'è una deviazione e dovrebbe essere calcio d'angolo è così gli old stars provano ad accorciare un po' le distanze dopo l'avvio shock c'è stato il lento recupero 1-1 però il Cervia non è più riuscito ad arrivare pericolosamente dalle parti di Bordon e adesso c'è una nuova occasione palla fuori Beppe Baresi controllo prova il sinistro tutto chiuso è difficile è difficile passare vuole chiudere in bellezza vuole chiudere alla grande il Cervia vuole vincere assolutamente questa partita come diceva Ciccio stasera la squadra sta rispondendo veramente bene stanno difendendo bene quindi difficile per i ragazzi di Colomba ragazzi tra virgolette impensierire la porta di Bertaccini si prova Rizzitelli con un'apertura morbida dall'altra parte all'indietro mezzo pallonetto di Bassaro e Bertaccini deve intervenire bella l'idea di Bassaro si in sicurezza Bertaccini non era molto fuori dai pali insomma era difficile far gol far gol su pallonetto si Bassaro un po' in controtempo vediamo e allora cerca una soluzione di fantasia calcio d'angolo cross e teso Bertaccini prevale lui palla ancora buona sempre Massaro subito aggredito Beppe Baresi pronto al nuovo cross nel mucchio svetta bene Missiroli poi può ripartire allora Bordignon si fa vedere come al solito a Rieta ma noi torniamo da Davide De Zan Davide e beh io sono qui con Beppe Signori Viercomod Colomma mi sembra una serata bellissima ce la fai eccezionale per lo spettacolo un po' meno per il tempo peccato perché era una giornata di festa e magari avremmo provito un po' tutti vedere un tempo diverso da questo sei di nostri ragazzi eh ragazzi te l'aspettavi così? eh sì perché comunque per loro è la giornata credo più importante dopo una stagione vissuta intensamente quindi questo è il premio che si meritavano quindi complimenti a tutti il premio ha iniziato giocando contro di voi Viercomod chi ti ha impressionato? ma ho giocato bene tutti anche perché è un anno che si preparano è giusto che abbiano fatto una partita così Colomba i tuoi ragazzi si sono comportati bene? sì l'acqua ci ha penalizzato molto i reumatismi artrosi varie però credo sia stata ugualmente una bella serata il seguito di gente che ha questa squadra è indubbiamente una cosa bella ero scettico all'inizio dico la verità all'inizio parlo dell'annata e invece strada facendo credo che abbia portato del buono ha appassionato un po' tutti sì direi di sì a te Sandro grazie grazie Davide allora abbiamo visto anche fallo di mano di Olivieri che poi però ha fatto un gol eccezionale naturalmente il gioco era fermo allora ormai davvero pochi minuti alla fine per le ultime telefonate poi Ilaria D'Amico dal campo sancirà alla fine del televoto e naturalmente a quel punto avremo il verdetto finale le società con Braida Oriali e Secco stanno prendendo contatto con i mister ma naturalmente prima bisogna attendere la scelta del pubblico quindi conoscere la rosa dei cinque dove poi si dovrà scegliere ultima opportunità per mettersi in mostra Scandroglio palla per lui ultimi assalti con Giuffrida in avanti sul 5 a 1 vi ricordo Pietra Bordignon doppietto Olivieri Spagnoli e poi invece il gol di Di Napoli per l'All-Star Bordonna palma del migliore però mi pare Sebino di poterla dare a Franco Baresi visto che non ci possiamo sbilanciare sul Serbia sì siccome non ci possiamo sbilanciare sul Serbia andiamo sugli avversari e credo sì Franco Baresi è stato indubbiamente il migliore migliore dei suoi aveva cominciato bene anche Bergomi questa ripresa ma molto bene anche per il ruolo di allenatore in campo come al solito Baresi merita questo riconoscimento poco più di un minuto tutto pronto ormai anche qui nonostante la pioggia nessuno si è mosso dallo stadio tutti vogliono conoscere ci sono anche diversi colleghi giornalisti per conoscere i nomi dei giocatori che andranno a far parte delle squadre più importanti e sono sicuro che anche moltissimi giocatori saranno davanti ai teleschermi perché il Serbia è stato seguito moltissimo proprio dai giocatori e dalle società è vero è vero lo ha dimostrato anche questa sera Clarence Edorf uno dei padrini diciamo così dei ragazzi di Ciccio Graziani qui c'è un fallo di Borriello ultima opportunità abbiamo rivisto sul tentativo di Rizzitelli Borriello che sogna di affrontare suo fratello però in Serie A gli ha già successo in un amichevole a Reggio Calabria prova ancora da lontano Baresi Bertaccini qui non ha problemi tutti aspettano il fischio di chiusura e quindi le ultime telefonate Bergomi va a proteggere il pallone straordinaria la condizione atletica anche di Peppe Bergomi Crippa ancora Bergomi pronta a ripartire trentacinquesimo lo scocco in questo momento intanto si gira Monelli ma viene subito fermato da Scandroglio l'arbitro ha concesso però ancora un calcio di punizione si riparte movimento ancora di Baresi ma è finita qua la finalissima di Campioni finisce in questo momento 5 a 1 il risultato finale ma il risultato più atteso è quello del televoto e poi quella della scelta delle tre società allora Sebino grande spettacolo noi non possiamo sbilanciarci no no assolutamente tanto per la vittoria del CER speriamo che il pubblico abbia scelto per il meglio sì io volevo fare a conclusione insomma di questo volevo fare il mio più grande in bocca al lupo a tutti questi ragazzi visto che l'ho conosciuto nel corso di questi mesi mi associo e cedo subito la linea a Ilario D'Amico a te Ilario e beh sono sono assolutamente uno dei protagonisti di questa partita grazie Sandro grazie da parte di tutti veramente per lo spettacolo aperto come sempre dalle tue telecroniche dal commento di Sevino Nella ma qui siamo adesso con loro gli undici titolari il Dream Team del Cervia Bordignon tu dopo aver segnato la doppietta eri penultimo o ultimo in classifica adesso sei molto più in alto forse che pensi? noi lo sappiamo perché abbiamo visto la classifica vorrei aspettare però vi garantisco che da tempo che non marcavo non facevo due gole in una partita quindi sono contentissimo di partecipare di questa festa spero che possa vincere allora prima di continuare a sentirli tutti veramente pulcini bagnati io chiudo ufficialmente il televoto da questo momento tutto è deciso i vostri voti sono arrivati a loro le vostre decisioni sono date tra poco il conteggio di tutti i vostri voti stabiliranno i cinque più votati e Milan Inter e Juventus stabiliranno tramite i loro rappresentanti presenti qui chi portare con sé i tre che realizzeranno il sogno però il sogno ragazzo voi l'avete l'avete realizzato un po' tutti allora al di là di Bordignon Oli doppietta di Giro Olivieri come stai? bene bene sono contento della mia prestazione niente è bellissimo giocare con questo pubblico speriamo di arrivare ad altri livelli che ti danno la possibilità di giocare con questo pubblico come sei in classifica secondo te? non lo so ero sesto è importante che ho dimostrato sesto vuol dire per una manciata di voti fuori dal podio questa è la scelta del pubblico io sono contento della mia prestazione è quello che scegliere al pubblico sono contento ho realizzato tutti gli obiettivi che avevo prefissato all'inizio anno bravo anche quello di ritornare più in forma di prima dopo l'infortunio Borriello chi è la più difficile da marcare tra questi che ne sanno veramente tanto di calcio sono tutti campioni sono tutti giocatori ex giocatori ma come se lo fossero ancora adesso i zitelli mi ha dato un po' noia però è vero comunque abbiamo fatto una buona partita ci siamo divertiti è importante comunque essere qua ed essere arrivati fino a qua paura? no paura no no copra Gualtieri eccomi niente è stata una strata indimenticabile come sei in classifica secondo te? non lo so non ho fatto gol quindi difficilmente sarò nei primi 5 però ci credo dai è stata una bella serata speriamo che ti riesca bene c'è qualcuno che pensava di fare più gol questa sera? sicuramente sì è stato un anno bellissimo è stato un anno spettacolare speriamo che mi possa regalare un'altra gioia comunque vada è stato pazzesco Missile regalami una rima delle tue in 10 parole 10 senza rima non mi sono mai divertito così tanto poi mi piace quando piove si scivola e poi è troppo divertente una stagione da incorniciare con te con tutti quelli che hanno lavorato con noi un applauso a questo pubblico stupendo un applauso a voi fatemi un applauso bravi bravi ormai sono veramente showman fatemi sentire chi veramente aveva dalla sua anche anzi contro anche un'influenza appena presa ieri con tutta quest'acqua invece si guarisce dalla febbre no? sì più o meno diciamo che grazie al pubblico che sono guarito mi hanno incitato dal primo minuto vi ringrazio non so come fare ad ora in presenza di loro sono stati bellissimi tutti quanti Spagno Bondi ciao cosa? tu sei il più agitato di tutti io lo so no sono tranquillissimo è stata una serata bellissima una festa per tutti ci siamo divertiti penso di avere che abbiamo chiuso in bellezza questo anno bellissimo voglio vado vado di qua vado di qua dove stanno facendo più caos siamo veramente in chiusura della prima parte dopodiché ci sarà il momento della vostra decisione le decisioni finali quelle in cui scopriremo le carte Ciccio c'hai una rima per sta pioggia per questo pubblico non lo so una perla delle tue no bisogna dirgli grazie di cuore perché con questa pioggia essere venuti qui è un motivo di grande soddisfazione grazie di cuore un bacio allora noi torniamo qui sotto la pioggia ma con un calore una tensione che sale guardateli si stanno commuovendo tra le lacrime la pioggia non so più distinguere ci sono anche i sorrisi e con quei sorrisi vi voglio ritrovare tra poco e li ritroverete voi tra poco subito dopo una breve pausa per noi di una partecipata a questa serata compresa i grandi campioni che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio adesso però è il momento dell'atto finale il momento in cui scopriremo chi di loro riuscirà a realizzarlo realmente quel sogno quel sogno che ha la portata veramente di pochi tutti tutti gli amanti del calcio tutti i bambini hanno sognato di poter giocare accanto a Maldini di duellare con Vieri o di provare a fermare Del Piero ebbene per tre di loro questa sera guardate Ciccio Graziani che da qui li incita non smette mai di incitarle per loro questa sera la possibilità sta diventando concreta il sogno è concreto ragazzi siete pronti? non riescono a star fermi i tre rappresentanti di Milan Inter e Juventus intanto sono pronti insieme con Davide Dezzane allora io direi che di non indugiare oltre direi che è il momento di andare a vedere la classifica vediamola per ora la vedremo vuota ovviamente Roberto Cenci dalla regia per favore datemi l'undicesimo ve lo dico io Mattia Misiroli per te il sogno finisce qua vieni Mattia voglio vedere se riesci ad usare la poesia anche in questo caso no non serve la poesia mi sono divertito tantissimo come ho detto prima sono giocatori che hanno futuro nel calcio in questa squadra io ero già onorato di esserci e sono onorato di far parte di questa grande squadra il mio obiettivo era il campionato il campionato l'ho vinto anche grazie al pubblico come ho detto prima bravo Mattia in bocca al lupo sei veramente un cuore d'oro ciao Mattia pronti ragazzi ancora un'altra partiamo ancora dal basso voglio scoprire chi è in decima posizione vediamolo Bobo Ibraiman Scandraglio per te il sogno finisce qui colonna della difesa del Cervia colonna vera Bobo sono contento di quest'annata e ringrazio veramente tutti quelli che quest'anno mi hanno votato e continuerò a rincorrere il mio sogno dall'altra parte qual è il tuo sogno? diventare un grande calciatore sperando senza televoto ciao Bobo lo vedete come riescono ad assorbire la tensione si fanno forza si stringono c'è il calore del pubblico c'è il calore dei vostri voti da casa adesso però andiamo a dare una buona notizia voglio sapere in che posizione scopriamo il secondo in classifica ce l'ha fatta Lorenzo Spagnoli è il primo dei cinque che avranno la possibilità di essere scelti da Milan Inter e Juventus una delle tre ovviamente il primo ad avere accesso per te Lorenzo Spagnoli il sogno continua ed ora il numero il numero nove vediamo il portierone del Cervia Davide Bertaccini per te il sogno Davide finisce qui ma ben altri sogni continuano e si stanno per realizzare Davide si infatti voglio fare un grossi bocca al lupo mia moglie e salutare tutto questo fantastico pubblico il suo cuore è lì c'è una bambina in arrivo e il suo cuore è anche tra i pali di quella porta che si chiama Cervia grazie Davide ciao ciao ma Grini alle mie spalle continua a dire grande Berta grande e lo dice a tutti ovviamente Ciccio li incita li coccola con il suo sguardo ma lo sguardo è quello della tensione totale e allora un'altra buona notizia le loro facce dicono tutto andiamo a scoprire il terzo in classifica Mario Marigno Bordignon si sono fatti largo a son di gol oggi in campo questi due Lorenzo Spagnoli mister pulizioni Marigno Bordignon che ha portato con la sua samba sgangherata il sole nel Cervia è il secondo dei cinque che hanno la possibilità di continuare a sognare andiamo andiamo a vedere che cosa succede invece la parte rossa la parte di chi non ce la fa vediamola ancora ditemi chi c'è in ottava posizione c'è il cobra Giacomo Gualtieri Giacomo Gualtieri per te il sogno finisce qui non togliere la maglia perché quella maglia ce l'hai cucita addosso tu Giacomo Giacomo ha segnato per un anno intero e non capita a molti ciao Giacomo grazie allora adesso andiamo a scoprire chi c'è andiamo nella zona verde il quarto andiamo a scoprire il tuo cambio di microfono viene tutto in diretta certo ci piace così non importa Cristian sei il terzo che può continuare a sognare mancano ancora due posti da assegnare due anche quelli che però non ce la fanno non ce la faranno e allora dove andiamo adesso andiamo a scoprire chi c'è in settima posizione Matteo Bondi James Bondi come lo chiama il pubblico ha dato tanto ha dato tutto quello che aveva Matteo il sogno finisce qui ma il sogno finisce qui ma bisogna andare avanti quindi io ringrazio tutti ringrazio tutta l'Italia tutti i miei compagni che mi hanno regalato una stagione indimenticabile e basta grazie a tutti di nuovo grazie a te Matteo le lacrime le tattiano a stento ma le loro lacrime le conosciamo le abbiamo già viste e dimostrano carattere e forza anche in questo momento allora adesso c'è da scoprire chi è stato il più votato di tutti ci sono Borriello Giuffrida Olivieri con due gol vediamo che cosa è successo lì inventa la classifica chi avete scelto il primo preferito dal pubblico vediamo Cristian Giuffrida non ci credeva ha voluto controllare Cristian Giuffrida Cristian è il quarto manca il posto per te Cristian il sogno continua ora ci sono due ragazzi due colonne del Cervia Ciccio che sono lì a soffrire uno dei due riuscirà ad entrare tra i cinque che poi potranno essere scelti da Milan Inter e Juventus la tensione nelle loro ginocchia la tensione nei loro volti io la voglio sciogliere subito e allora andiamo a vedere chi farà parte del quintetto che può continuare a sognare e chi invece si ferma qui quinto classificato Fabio Borriello per te Fabio il sogno continua Ciro Olivieri il cuore la grinta lo stomaco tutto tutto in campo oggi due gol per te il sogno finisce qui ma quale sogno? sono contento di tutto quello che ho fatto purtroppo sono stato fermo quattro mesi ho perso un po' di visibilità sono rientrato alla grande e questa è la cosa più importante guarda che sono stati proprio una manciatina di voti ma tanto sapevo di non giocarmela con Borriello volevo soltanto far vedere il mio il mio valore calcistico ci sono riuscito perché sono contento va bene così non c'è niente da rimpiangere buona continuazione ciao Ciro eccoli là li vedete i cinque finalisti i cinque sognatori fino all'ultimo i sognatori estremi li chiamerei io sono lì Spagnoli Bordignon Borriello Giuffrida Arrieta e adesso la palla la patata bollente passa a voi rappresentanti di Milan Inter e Juventus in collegamento in contatto con i loro allenatori le indicazioni che sono arrivate da casa Davide ok adesso credo che debbano andare a riunirsi e decidere chi saranno i tre sognatori signori a voi il compito non è facile vi aspettiamo qui tra poco per il momento più intenso più emozionante più atteso dai ragazzi di Campioni Ilaria grazie Davide qui tra la pioggia e il vento veramente stiamo vivendo di tutti ma è così questa trasmissione è fatta di emozioni vere di fatica le hanno dimostrata tanta loro e allora le fatiche gli abbracci le emozioni non sono soltanto quelle di questi cinque che sono lì sulla pedana e che continuano a sognare ma sono anche quelle di tutti i giocatori del Cervia che voglio in questo momento idealmente radunare e che sono qui alle mie spalle perché sono 26 e tutti e 26 hanno vinto realizzando il loro sogno e allora prima del servizio molto bello dedicato ai nostri ragazzi dobbiamo fare vedere le immagini del sorteggio che ha deciso chi tra Inter, Juve e Milan deve scegliere per primo no? hai ragione è vero ovviamente c'è stato un sorteggio certificato con un notaio con la presenza delle autorità e vediamo il primo sorteggiato è stato l'Inter che sceglierà per prima secondo la Juventus e al terzo posto sceglierà per ultimo chi portare con sé il Milan questo è il sorteggio che è avvenuto poco prima della partita quindi tra poco siamo pronti per chiamarli in causa Milan-Inter e Juventus stanno per scegliere soltanto tre di loro avranno accesso lì ma come dicevo lì ce ne sono cinque sulla pedana ma il Cervio è tutto i campioni sono tutti loro e allora per voi ragazzi per questo viaggio per questo sogno e per le emozioni che avete vissuto e che ci avete regalato l'omaggio da parte di tutti noi a voi oh boy Grazie a tutti. 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 Già la maglia in mano, già la maglia in mano. E su quella maglia c'è scritto un nome importante. Ilaria. Allora, l'abbiamo detto. Aspetto che si allineino. Venite ragazzi. Lele Oriali per l'Inter. Arie dobraida per il Milan, Alessio Secco per la Juventus. Iniziamo da Oriali. Allora, Lele Oriali, chi porterai con te all'Inter? Vai. Allora, Cristian Arrieta. Cristiana Rieta, Cristiana Rieta, si è credito alla formazione di l'arma della libertà di Cina. Sono partiti, sono il trio che sta sempre insieme, li vedete, Gualtieri, Olivieri e Arrieta, non ce l'hanno fatta a resistere, non ce l'hanno fatta. Lasciamoli vivere così, liberamente, liberi dal cerimoniale. Avete fatto bene così ragazzi, va bene, non c'è problema. Nel frattempo guardate un po' chi va ad omaggiare. Cristiana Rieta, Beppe Bergomi! Grazie Beppe! E siamo al secondo momento, l'Inter ha scelto, ottima scelta, adesso tocca alla Juventus. Ilaria, aspetta, aspetta, vieni qua. Ecco, il manager della Juventus, chi di concerto con noi allenatori e dirigenti porterai con te la Juventus. Non ci credeva, non ci credeva, continuava a rifercercelo e non ce la farà. Dio non ce la farà da arrivare fino in fondo. E invece è stata la scelta della Juve, Lorenzo Spagnoli. E un coriaceo come Pietro Vierkovo consegna la targa a Lorenzo Spagnoli. Un augurio, un bel augurio di un buon proseguimento e soprattutto di una lunga carriera, come quella rappresentata da Pietro Vierkovo. Grazie! E dopo Inter e Juventus è arrivato il momento del Milan. Arrieto, Braida consegnerà l'ultima maglia. Ci sono Arrieto, Braida, Bordignon, Borriello, Giuffrida. La situazione è un percorso a ostacoli per... Braida, chi porterai con te al Milan? Fabio Borriello, Fabio Borriello al Milan! Fabio Borriello al Milan! E' spogliore dei compagni! E' spogliore dei compagni! Tutti intorno ai tre vincitori, guardate, campione anche questo! La gioia che esploda con Solare i due che sono rimasti fuori, ma soprattutto a condividere il sogno che è un po' anche loro, in fondo, di tutti quei tli che ce l'hanno fatta, i tre che partiranno con Milan, Inter e Juventus. Vi rendete conto da casa? Ed è una vera e propria esplosione di emozioni, negli occhi di Graziani, Magrini e negli occhi di tutti i ragazzi. L'emozione, la gioia è incontenibile. Vincono in tre, ma vince tutto il Cervia, vince Campioni. Arrieta all'Inter, Borriello al Milan e Spaglioli alla Juventus, i nostri tre vincitori! Guarda, guarda chi sta andando ad omaggiare Fabio Borriello. Si parla di campioni che sognano di diventarlo realmente nella massima serie. E lì c'è un grande campione, Beppe Gol, signori! Che consegna Fabio Borriello. Fabio, guarda chi è di fronte a te, è frastornato Beppe. La consegna del premio, la consegna del premio diventa difficilissimo. E non capiscono più niente. Fabio! Eccolo, eccolo qua. L'aveva detto all'inizio, il mio sogno... Beppe signori, grazie! L'aveva detto all'inizio, il mio sogno sarà quello di marcare mio fratello in Serie A. Suo fratello quella maglia l'ha già vestita. E adesso c'è lui, al Milan. Hai ragione. Eccoli qua, guardate la gioia. Io non so se riuscite. Con la bravura, la maestria di Roberto Cenci a capire qual è la vera condivisione di tutto un gruppo. Delle soddisfazioni di ciascuno. Piangono. Piangono i vincitori, piangono gli altri. E guardate, stiamo rivedendo proprio il momento della proclamazione. Arieta, Spagnoli e poi Borriello che si inginocchia. Piangono un po' tutti. Piove. Non penso che sia per loro e per tutti noi la serata più bella. Ma la cosa straordinaria è che vediamo piangere anche gli altri. E pianga Giuffrida. Giuffrida. Lo portano in trionfo. Sperava di vincere come tutti loro. È stato il primo, era il grande favorito. E invece? Eccola là. Queste sono le loro emozioni. È arrivato il momento della canzone. Campioni del cuore. Io credo che questo sia il modo migliore, ragazzi, per finire. Il modo migliore per finire è con un omaggio a tutto il pubblico che vi ama, ragazzi. E l'omaggio di tutto il pubblico, a tutto il pubblico, è quello del vostro inno. Un inno che ci è stato regalato, che vi è stato regalato da uno dei più grandi interpreti della canzone italiana. Gigi D'Alessio, voi ragazzi avete voluto rincidere questo pezzo e allora qui per voi, per tutto il pubblico, per chi li ha amati, per chi li ha seguiti e per l'augurio più grande che passano a continuare. Campioni del cuore, cantata dai ragazzi del Cervia. Ciao! Ehi, ehi, sono Francesco Gullo. Vai Diego, cantiamo insieme, grande! Una sveglia suona, fuori ancora a buio. Presto che si va, la doccia è calda già. C'è una lacrima negli occhi di tua madre, la borsa è là, sarà un'amica d'avventura. Vai boy! Come è strano sotto l'alba camminare, quanto freddo fa, non c'è traffico. Vai ma figlio! Con chi metri sei davanti alla stazione, che fortuna avere tu quest'occasione. Campioni del cuore, in questa città, quanti calci hanno un pallone per sognare. Vai! Campioni del cuore, che bello sarà. Guarda Cervia! Sulla maglia un grigolore da uscire, campioni del cuore, si sentirà il colore da piuttare. Sulla maglia un grigolore da uscire, campioni del cuore, si sentirà l'amore. E ti chiederà, quando tornerai, vai buschi! Le promesse vanno fante senza luce, ma il tuo sogno va gridando anche la voce. Campioni del cuore, campioni del cuore, di questa città, quanti calci hanno un pallone per sognare. Campioni del cuore, che bello sarà. Sulla maglia un grigolore da uscire, se un'emozione ti fa vincere, le braccia toccano le nuvole. Quel prato avrebbe un sogno magico, quando si stringono a te. Campioni del cuore, campioni del cuore, si sentirà il tuo nome. Campioni del cuore, che bello sarà. Sulla maglia un grigolore da uscire, se un'emozione ti fa vincere, se un'emozione ti fa vincere, se un'emozione ti fa vincere, se un'emozione ti fa vincere. Campioni del cuore, se un'emozione ti fa vincere, se un'emozione ti fa vincere, se un'emozione ti fa vincere.